Benvenuti in Biorigeneral, nel nostro poliambulatorio di specialistica medica e chirurgica. Biorigeneral nasce dalla esperienza oramai quasi 25ennale che abbiamo nel campo della medicina e chirurgia estetica e quindi la pelle resta il distretto su cui concentriamo maggiormente la nostra attenzione, quindi attraverso la dermatologia, attraverso la chirurgia plastica ambulatoriale, attraverso la medicina estetica, attraverso la chirurgia estetica. Però abbiamo voluto arricchire il nostro centro con tante altre figure professionali per poter dare al paziente un servizio completo e per poter prenderci cura della sua salute a 360 gradi. Biorigeneral è una struttura nuova, nata dall'unione dell'esperienza del direttore sanitario Dottor Donato Zizi e dell'esperienza personale che ci siamo sempre occupati di medicina e chirurgia estetica. La medicina estetica fino ad oggi è stata sempre considerata come una branca della medicina che ha portato un po' di malinterpretazioni dalla parte comunque di chi ne venisse a conoscenza perché ha sempre considerato la medicina estetica solo esclusivamente come un trattamento di una ruga. Dietro la ruga però in realtà c'è comunque uno studio che è quello legato alla fisiologica senescenza della cute e che può essere dovuta a varissimi fattori. Sulla base e sullo studio insomma di quello che può essere l'invecchiamento cutaneo è emerso anche la necessità di dover considerare il paziente quindi non solo un paziente che sta invecchiando solo diciamo dal punto di vista cutaneo ma anche dal punto di vista di altri organi, di altre strutture del proprio organismo. Perché abbiamo scelto il nome Biorigenera? Perché ci sembrava adatto per esprimere quello che è la nostra più grande ambizione cioè quella di più che curare le malattie che inevitabilmente vanno curate una volta che si sono manifestate ma quella di cercare di prevenirne l'insorgenza quindi fare in modo che l'organismo possa funzionare perfettamente perché un organismo che funziona bene non si ammala. L'altro motivo è per sottolineare l'interesse che abbiamo verso i nuovi orizzonti della medicina in tutti i campi della medicina dall'ortopedia alla cardiologia alla dermatologia. Oramai la parola magica è rigenerazione. In alcune situazioni è già una splendida realtà. Sappiamo tutti ascoltando le notizie in televisione che a volte è stato rigenerato, è stato creato un pezzo di pelle, un pezzo di osso, addirittura vi sono degli studi avanzati per la rigenerazione del tessuto cardiaco e così via. Quindi noi siamo estremamente attenti a queste novità e cercheremo di proporle ai nostri pazienti appena saranno disponibili e ovviamente dopo che la sicurezza è stata attentamente valutata. Il paziente una volta che si siede davanti alla nostra scrivania deve essere guardato nella sua globalità. Quindi anche fare un'anamenesi abbastanza dettagliata di quelle che possono essere le patologie del paziente, che a volte purtroppo ci limitano anche in alcuni trattamenti esclusivi di medicina estetica, ci permette anche di poter far venire o far emergere qualcosa di cui il paziente magari non è a conoscenza. È importantissimo dover testare attraverso una diagnostica strumentale quelle che possono essere patologie un po' più dettagliate o comunque per avere un dettaglio più specifico di una patologia. E qui anche un servizio che abbiamo aggiunto al nostro poliambulatorio, che è quella della diagnostica strumentale. Quindi non solo ci saranno altri specialisti che faranno una visita semplice, ma ci sarà anche l'aggiunta di elettrocardiogramma, di ECG da sforzo, ecografie. Vengono fatte una serie di elementi che possono comunque scandagliare in maniera più approfondita il paziente o alcune patologie del paziente. La parolina magica che potrebbe un attimino racchiudere in sé tutto il concetto bio in general è cambiamento. Qualche volta nella nostra vita abbiamo bisogno di cambiare, soprattutto quando cambiamento significa tornare a delle situazioni più fisiologiche e significa riconquistare la salute che avevamo e che purtroppo molte volte per colpa nostra stiamo mettendo in pericolo. Una delle offerte di cui siamo più contenti ed orgogliosi è il nostro Bio Regeneral Programme. Un programma costituito da medicina, nutrizione, sport e rilassamento mentale per poter ritrovare una salute perfetta o la più possibile vicino alla perfezione o mantenerla. Chi è il nostro paziente tipo? Proviamo ad immaginare una persona di mezza età, hanno più, hanno meno, con qualche iniziale acciacco, qualche doloretto, qualche chiletto in più, la pressione che si comincia ad alzare, magari fuma e non riesce a smettere di fumare, dorme male, abbastanza stressato. Ecco, parecchi di noi purtroppo si possono riconoscere in questa descrizione. Non ho menzionato nessuna patologia specifica, questo soggetto non è malato, ma ahimè, sta purtroppo preparando il terreno ad una patologia se non mette mano a queste situazioni, possibilmente tutte quante. Ecco, Bio Regeneral Programme fa proprio questo, quindi il programma consta di una diagnosi molto accurata che va dagli esami del sangue all'ecografia internistica, ecografia muscolo-scheletrica, un esame kinesiologico, anche ortopedico se serve, un check-up nutrizionale per vedere come il paziente mangia, un esame, un'analisi delle abitudini sportive del paziente e l'apprendimento di tecniche di rilassamento mentale per poter imparare a gestire lo stress. Quindi il paziente fa in pochissimo tempo, in due ore fondamentalmente, una serie di esami e approfondimenti che richiederebbero giornate e giornate se fatte singolarmente, dopodiché dall'analisi attenta di questi dati medici scaturisce il programma, se il paziente deve perdere peso, se il paziente ha dei dolori che deve trattare, se ha una situazione biomeccanica che va corretto e se il paziente deve imparare a gestire il proprio stress che ha delle repercussioni sulla sua vita sociale e di relazioni. Il paziente che si rivolge da noi avrà quindi a disposizione un'equipe di specialisti. Il paziente che si rivolge da noi avrà quindi a disposizione un'equipe di specialisti. Grazie. Grazie.